Anche io è l'ultimo film di Maria Schrader, con questo lavoro dopo un triennio che secondo me è particolarmente intenso per questa regista che ha lavorato anche molto bene, vi ricordate nel 2020 ha girato Anorthodox, una delle serie credo più belle che siano mai state realizzate, forse si trova ancora su Netflix, non lo so, quattro puntate, miniserie sul mondo ebraico, veramente strepitosa. L'anno dopo aveva fatto I'm Your Man, che era comunque un film che aveva il suo interesse, un lavoro che aveva il suo spessore e quest'anno anche io, partiamo dalla traduzione dal titolo così ci togliamo subito questo problema, non so, vi confesso, probabilmente ci sono delle cose che io non capisco, anzi sicuramente ci sono delle cose che io non capisco, ma proprio anche rispetto al modo di dare i titoli, Io credo che probabilmente mi sfuggano delle questioni importanti e che ci siano delle logiche, perché anche io, a me sembra la traduzione italiana di Me Too, letterale italiana di Me Too, credo che non ci voglia molto a capirlo. Però, ecco, diciamo che la natura di Me Too è una natura che in quel momento lì era necessaria, è stato esplosivo, è stata una cosa meravigliosa a suo modo, deflagrante, no? Però la natura di quella denuncia lì era anche a me è successo che, che ha una, dal punto di vista proprio anche semantico, una natura passiva, anche a me è capitato che questo film, cioè denuncia che andava fatta esattamente in quei termini, ma questo film sposta l'accento da ciò che mi è capitato, a ciò che io me ne faccio. Cioè, she said, lei ha parlato, lei lo ha detto. Questa è una grossa decisione e sappiamo quanto coraggio ci vuole e soprattutto porta una persona dall'essere destinataria di un'azione altrui a essere invece attivamente protagonista di una nuova azione che la vede segnare lei un nuovo cammino, segnare lei una nuova direzione della sua vita. Questo accidenti temo che si perda. Riconosco che comunque anche io non è anche a me. Anche io potrebbe conservare una radice di attivo, no? Di attività, di protagonista, no? Però io francamente non capisco perché questo titolo così semplice, così forte, lei ha parlato. Ma perché non lo abbiamo fatto? Io non so, evidentemente io questa cosa non la capisco. Messa da parte questa questione, l'operazione è un'operazione che secondo me ha molti lati. Il film è un film molto ben fatto, molto ben scritto, molto solido. Richiama tantissimo da una parte i film che sono stati fatti sul caso Watergate, eccetera. E anche richiama per altri versi Spotlight, che è del 2015. Quindi sono film che pongono nella questione giudiziaria e di indagine giornalistica un accento molto forte. È bello che sia così perché quando sono dei giornalisti o, in questo caso, delle giornaliste a compiere questa indagine, c'è un'implicita denuncia di vuoto da un punto di vista giudiziario. Cioè, ma perché nessuno se n'è occupato? Ma perché nessuno va a vedere? Però, d'altro canto, il giornalismo di indagine è un mestiere preciso che esiste, che ha un suo ruolo e quindi ben venga. Trovo che l'operazione sia complessa da valutare, però, perché a me il film così di pancia, subito, a me è piaciuto molto. Io non mi sono annoiato mai, non c'è mai stato un momento in cui ho detto, però non è credibile, eccetera. Sono sempre stato dentro la storia e mi ha sempre dato un motivo alla fine di una scena per chiedermi e adesso che cosa succede. Quindi applausi e per me il film funziona. Ci sono degli elementi che lo accomunano però pericolosamente a Spotlight, che è un altro bellissimo film, nel senso dell'utilità che Spotlight ha avuto, ma che incappa, secondo me, nello stesso problema. Cioè, quando ci sono dei film di indagine su qualcuno che ha compiuto qualcosa che nella nostra morale normale dovrebbe essere abominevole, tipo la pedofilia nel caso di Spotlight e l'abuso sui luoghi di lavoro sulle donne, sessuale sulle donne, tutti siamo schierati dalla stessa parte pubblicamente, forse privatamente evidentemente un po' meno, visto che queste cose continuano a capitare, però diciamo che l'empatia di uno spettatore medio è subito catturata, è subito conquistata. Sappiamo da che parte stare. E d'altro canto la forbice della storia si presenta schiacciante. Cioè, addirittura in una dichiarazione di una delle vittime, in quel momento la forza di Weinstein era 10, la mia era 0, perché lui era a capo di questa piramide e io mi riferivo, per denunciare questa situazione, all'HR di quella piramide lì. Quindi che cosa volete che potesse succedere? Niente. E di fatti non succedeva niente. Ok, questo ci prende subito da una parte, però se da una parte il film di denuncia è ottimo perché tira fuori il problema, dall'altra il film è racconto di una storia e il racconto di una storia è racconto di umanità. Allora, sono già dalla parte giusta, non c'è bisogno di sottolinearlo. Cioè, queste due giornaliste che sono anche molto bravi, cioè le attrici sono anche molto brave, sono Zoe Kazan e Carey Mulligan. Leggo perché mi dimentico sempre tutti i nomi. Zoe Kazan è anche la nipote di Elia Kazan, ma anche Carey Mulligan l'avevamo vista in Una donna promettente. Quindi è già associata a un certo tipo di battaglia, è già associata a un certo tipo di noi siamo i buoni e quelli sono i cattivi. Ma due giornaliste che lavorano insieme, collaborando insieme su un caso così, avranno avuto anche qualche momento in cui una la pensava in un modo e una la pensava in un altro. Qualche conflitto tra loro ci sarà stato o sono veramente angeli scodellati dalle nuvole caduti in terra e si volevano bene dall'inizio ed erano dalla parte giusta dall'inizio e non hanno grinze, non hanno crepe, non hanno increspature. Perché io mi domando come anche una donna possa proiettarsi in loro se non come all'interno di una convenzione, insomma, se non all'interno di una lotta che ci vede tutti, anche uomini, che diciamo vagamente sensati dalla stessa parte. Siamo già tifosi del loro team. Ci sarebbe stata la possibilità magari di indagare una microscopica parte di legittimo ragazzi, legittimo ego nel fatto di avere per le mani un pezzo esplosivo che ti farà entrare nella storia del giornalismo. Anche questo sarà stato una possibilità rispetto a loro, no? Io credo. Ecco, non c'è traccia di questi elementi, non c'è proprio traccia di questi elementi e questa cosa mi lascia un po' perplesso, vi confesso, perché sono delle immaginette, finiscono con l'essere delle immaginette ed è un peccato perché in realtà sono bravissime attrici, la struttura c'è, i dialoghi ci sono, non c'è problema, no? A parte questo, torno alla questione del titolo però per farne uno sviluppo un pochino più approfondito e tematico. She said, lei disse, parlare è un'azione. Parlare è un'azione, dire che si sta male, non è dire che si sta male, è tante cose, è chiedere un aiuto, è denunciare un problema, è denunciare un comportamento, denunciare una persona, vuol dire farsi carico, dire la parola che fa la differenza. Questa è la cosa più importante del film che era chiusa nel titolo ma che scorre in tutto il film, io credo in un modo veramente meraviglioso. Noi tra le tante parole che diciamo forse a volte dimentichiamo di dire quelle che fanno la differenza, quelle che cambieranno il futuro. Non occorre cambiare il mondo, non dobbiamo inventare la ruota, ma all'interno di ogni singola conversazione a volte saper dire quella parola che può farla svoltare, saper dire quella, entrare in quel momento che può fare la differenza. Fare la differenza col mondo che c'è stato fino a oggi. E questo è il grande coraggio che hanno queste donne. E su questo coraggio anche Ashley Jude, che è presente anche fisicamente, ma comunque anche Gwyneth Paltrow in realtà, c'è attrici che hanno prestato il loro nome e la loro presenza all'interno di un lavoro per ribadire, per essere, per mostrare in faccia. Sì, io sono stata vittima di questo e adesso sono protagonista nel dire, nel parlare e mi riprendo la mia dignità che mi è stata tolta. Mi è stata tolta anche lì, appunto. In che senso? A una donna che ha subito un abuso è stata tolta la dignità. Perché qua c'è un'ipocrisia che viene molto ben raccontata, secondo me, nel film, che è nostra, che è di tutti, che è di tutto il mondo per bene. Perché una donna che subisce un abuso non subisce nessuna ferita alla sua dignità dal punto di vista del significato. Non è meno donna di un'altra che non ha subito nessun abuso. Non ha meno dignità di una donna che questa sventura non l'ha avuta. Io credo che all'interno di una storia di abuso sia l'uomo abusante che perde dignità, non la donna abusata. Quindi noi dovremmo capire, no? È come quando si coprono, lo dico sempre, i morti sulle strade, quelli uccisi dalla mafia, dagli attentati. Si copre il cadavere, per rispetto. Ma il cadavere non ha niente di cui vergognarsi, anzi bisognerebbe proprio guardarlo il cadavere. Casomai magari è chi ha sparato che potrebbe avere qualche problema, no? Ecco, questo saper dire questa parola che porta alla nostra esperienza, prendendoci il rischio di quello che questo può significare, è molto importante. Perché, altro punto del film, in ballo non c'è soltanto la giustizia rispetto a chi ha subito oggi o ieri questi traumi e queste violenze. In ballo c'è il futuro. C'è il futuro che si scrive da oggi in avanti. Molto bello leggere, alla fine del film, che quell'inchiesta e il caso Weinstein abbia sollevato poi una serie di denunce. Ci sono anche i numeri, ma di alcuni di questi numeri si dice è impossibile contarli, no? Da tanto è... vuol dire che cominciamo a capire, e questo è il vero senso dell'indagine, proprio questo tema della dignità. Cominciamo a capire che la dignità l'ha persa chi ha abusato e non chi è stato abusato. E questo accidenti va sottolineato, no? Per questo ribadisco che forse She Said poteva essere lasciato così come titolo. Credo che il film sia costruito e girato proprio come un vero film d'inchiesta. Certe volte anche lievemente retro, nel tipo di inquadrature, nel tipo di lavoro che fa anche negli interni. Però a me, sarà che son vecchio, ha dato quelle emozioni, io sono stato contento di vederlo così. Maria Schrader conosce il cinema benissimo, lo conosce da dentro e anche l'uso proprio di queste ottiche così tese verso l'interiorità dei personaggi è molto suggestiva. Rimangono un po' slegate le questioni familiari di queste due giornaliste. Sono un po' come attaccate, no? Alla storia e forse non ce ne sarebbe stato bisogno oppure ne avremmo avuto bisogno di più. Cioè rendere più importanti le loro vite avrebbe potuto darci modo di cogliere il sacrificio che questa partecipazione a quest'impresa costava e anche la passione che poteva portare via dalle famiglie. Qualche elemento magari di fragilità interna che ce le avrebbe rese più umane, come dicevamo prima. Mi sembra che sia stata fatta una scelta molto bella sulle musiche. Ho letto qualcosa di qualcuno che non le ha molto amate, troppe, troppo suggestive, come se strizzasse l'occhio alle emozioni. Ma non lo so ragazzi. Le musiche secondo me sono molto belle e mi emozionano e io quando mi emoziono sono contento. Sono abbastanza convinto che le emozioni vengano fuori quando tutto il resto del quadro cognitivo funziona. Cioè come dire se io non credo a quello che sto vedendo io non mi emoziono perché lo trovo falso. Se io credo a quello che sto vedendo, certamente sapendo che è finto, posso anche emozionarmi per le cose che avvengono. Credo che sia un film invece girato in un modo, se vogliamo fare questo tipo di discorsi che a me non piace tanto, però sento un clima per cui da alcune parti insomma film un po' girato al femminile. No, non è vero, non è un film girato al femminile. Se io non sapessi che la regista è Maria Schrader potrei dire che era chiunque. Cioè non è un film dove brilla una spiccata personalità d'autore, ma è un film di grandissimo mestiere. Secondo me Maria Schrader ha un grandissimo mestiere, quindi io anzi credo che sia un film da vedere, come sempre da vedere insieme e mi piacerebbe molto questa volta fare un invito più specifico. Vedetelo insieme, uomini e donne, per parlarne poi. Perché io credo che un film come questo, come al solito, è come al solito. Quando i film sono fatti bene, secondo me, aiutano le vittime, ma aiutano anche chi sta dall'altra parte. Chi sta dall'altra parte non sono solo i colpevoli, sono anche quelli che non sono colpevoli, non si renderanno mai colpevoli, ma non saranno mai vittime. Perché? Perché non appartengono al genere. Per cui per noi maschi è come un viaggio in trasferta, perché noi sappiamo anche noi che cosa vuol dire subire un ricatto, sappiamo anche noi che cosa vuol dire subire un'umiliazione, perché non esiste soltanto il ricatto e l'umiliazione contro le donne e per via sessuale. Quindi tutti gli esseri umani sanno. Ma quando entriamo nello specifico, no, noi questo tipo di abuso sulla nostra pelle non lo conosciamo e non facciamo nemmeno l'ipotesi di poterlo subire. Questo vuol dire essere dall'altra parte rispetto alle vittime. Ecco, credo che questo film invece possa creare dei ponti. Non sarà mai come fare l'ipotesi veramente, ma il cinema serve a questo, a fare un viaggio in un'altra vita. E secondo me Maria Schrader in questo è riuscita. Buona visione.